Io non avrei dubbi, se una comunità medico-scientifica mi dovesse indirizzare su una valutazione per la quale con 30 giorni di chiusura la situazione nel paese potesse modificare radicalmente in positivo per il bene di tutti i cittadini, perché poi noi rappresentiamo un pezzettino del paese, il paese ha tante sfaccettature, tanti interessi, tante articolazioni, io non avrei dubbi, non avrei dubbi perché penserei a tutte le persone che come me, come tutti noi, le persone anziane, quelle a maggior fragilità, che potrebbero in qualche modo, senza allarmismi, perché non bisogna generare allarmismi, ma una sana attenzione e senso di responsabilità nei confronti degli altri, forse in questo paese ogni tanto lo dovremmo recuperare, io non avrei dubbi. Secondo le ultime disposizioni noi saremmo già a una distanza a rischio. Sì, che dovremmo stare a due metri. Ok, la commissione, sempre dei saggi, degli scienziati del governo, ha detto un mese di stop, però non necessariamente sport a porte chiuse. Cioè, lì c'è anche un problema di vicinanza tra gli atleti, allora devi fermare tutto, se è un problema di trasmissibilità, di rischio di trasmissibilità. Ma è evidente, è evidente che in questi casi è giusto che il medico e lo scienziato dia le indicazioni. Io credo che, qualora, sai, fosse per tutta la vita, sarebbe inimmaginabile. Qua si sta chiedendo uno sforzo limitato nel tempo e per un periodo preciso, che può salvaguardare la tenuta del sistema sanitario, perché, come voi sapete, non è soltanto un problema di mortalità, ma è soprattutto un problema di tenuta del sistema sanitario, uno dei migliori sistemi sanitari. Non sanno dove ricoverarli, certo. Esattamente, soprattutto per le terapie intensive. Per cui io da normalissimo cittadino, non sono né il Presidente del Consiglio né nessuno, da cittadino dico, bene, se mi si chiede uno sforzo in questa direzione, buonsenso da padre, da cittadino e da figlio di una madre di 84 anni, credo che si debba tranquillamente affrontare la vita e pensare che tutto finisce. Per tornare, allora, nell'ambito sportivo, andiamo a fare proprio il punto con Maurizio Fanelli per capire cosa è successo oggi, perché ovviamente le notizie che sono rimbalzate, prima da Tokyo e poi da Lausanne, insomma, hanno fatto davvero il giro del mondo. Andiamo a sentire. Giornata tesa sull'asse Tokyo-Lausanne. Un botta e risposta apparentemente innocuo tra il Ministro giapponese per le Olimpiadi, Seiko Hashimoto, e il Presidente del CIO, Thomas Bach, rischia di aprire nuovi scenari in vista degli imminenti giochi olimpici. In un'intervista sull'Independent, la Hashimoto ha parlato della possibilità prevista dal contratto di posticipare la rassegna a Cinque Cerchi, purché i giochi si disputino entro il 2020. L'ex pattinatrice e ciclista nipponica ha sottolineato che il Giappone farà di tutto per rispettare le date definite, ma oggi, in piena emergenza coronavirus, non si può escludere uno slittamento. La reazione del CIO non si è fatta attendere. Thomas Bach, in apertura dell'esecutivo del Comitato Olimpico a Lausanne, ha dichiarato che l'Olimpiade si svolgerà a partire dal 24 luglio, ribadendo una forte determinazione allo svolgimento di giochi, che saranno caratterizzati da un grande successo. Meno perentoria la posizione di un altro membro di peso del Comitato Olimpico, il canadese Dick Pound, che ha sottolineato la ferma volontà del CIO di andare avanti, a meno che non ci sia un intervento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'emergenza resta dunque al centro delle discussioni dello sport mondiale, previste a breve altre tappe, tra cui una videoconferenza tra Lausanne e Tokyo sui rischi del coronavirus in relazione ai giochi. Tutto questo, mentre il conto la rovescia verso Tokyo 2020 va avanti. Dire oggi però quando potrà finire è impossibile. Siamo d'accordo con Maurizio Fanelli, dire oggi quando potrà finire è impossibile, stavamo proprio parlando qui in studio, una situazione talmente indivenire. Tra l'altro vengono anche annullate o comunque modificate le date per andare a definire le qualificazioni olimpiche. Oggi proprio, Presidente, è la notizia del Comitato per la Scherma Paralimpica, che ha annullato praticamente le gare che dovevano servire di qualificazione. Abbiamo qui il CT Riccardo Verno, dovevano esserci finire proprio in questi giorni, la domenica, le Worsire, Saliniano, Sabbiadoro, che dovevano servire soprattutto per la riclassificazione degli atleti e non ci sono state. Anche questo è un problema, stanno cambiando di momento in momento, come diceva anche il nostro direttore Auro Bulbarelli. Naturalmente tutti i percorsi di qualificazione stanno subendo degli stop e degli ostacoli importanti, perché si parlava adesso della scherma, in questo caso, paralimpica. È naturale che annullate tutte le competizioni, le prove, valevoli ai fini dell'acquisizione di punti per la qualificazione da qui all'eventualità di Tokyo Paralimpica, bisogna capire cosa fa fede la situazione fino adesso fotografata e quegli atleti che non hanno maturato il punteggio, quindi la qualificazione, ma avrebbero potuto nelle prove successive perché stanno lì a un pezzetto. È tutto falsato, naturalmente. Questo non soltanto per la schema, ma per tante discipline. Però, d'altronde, questa è una situazione di totale emergenza, imprevista ed imprevedibile, che però va gestita. Giustamente, come ricordava anche il direttore, è tutto in itinere, è tutto in divenire, cambia tutto di ora in ora. Auspichiamo che cambi meglio, perché poi io non mi preoccupo, sinceramente, ma lo dico contro non i miei interessi, ma il mio amore che è lo sport. Non mi preoccupo che si possano non fare le Paralimpiade. Mi preoccupo molto di più di tutto il resto. Poi, dopodiché, naturalmente, per un uomo di sport, l'Olimpiade e la Paralimpiade è qualcosa di sacro, no? E che va mantenuto. Però io credo che, insomma, uno nella vita debba pure essere normale ogni tanto è fare un passettino indietro anche quando si esprimono delle. Voglio sentire, volevo coinvolgere, visto che abbiamo un atleta, insieme a Maurizio Colantonici e Anna Danesi, vorrei sapere anche da atleta, Maurizio, Anna, come si vive questa situazione? Perché poi siete voi quelli che dovete aspettare, soprattutto, forse più di noi, no? Le notizie, come prepararsi, come non prepararsi, siamo andati anche a trovare le ragazze della pallannuoto, avrebbero dovuto fare il torneo preolimpico, invece sono in ritiro, sono a osse anche loro in attesa di notizie. Quindi è una situazione forse anche complicata, diciamo, a livello sportivo, complicata, come diceva giustamente il Presidente Pancalli, per l'Italia. Sicuramente se vogliamo guardare più in là, quindi a quest'estate, il rischio che l'Olimpiade non si svolga o debba essere in mandata è una cosa che sicuramente dal punto di vista da atleta è una cosa un po' impensabile perché è appunto il sogno di tutti poter essere a Tokyo e partecipare. Guardando invece il campionato è sempre non sapere se la domenica che viene si gioca, se si gioca a porte aperte, se si gioca a porte chiuse. Appunto, anche per noi adesso è un po' complicato, continuiamo ad allenarci, ma non si sa. Arianna, infatti la situazione della pallavolo è questa, chiaramente si sta adeguando a quelle che sono le indicazioni del governo. Pensate che oggi a Macerata e quindi nelle Marche dove fino all'altro giorno si poteva giocare a porte aperte sono state chiuse le scuole e vietate tutte le manifestazioni pubbliche, quindi in alcune regioni si può giocare, in altre no, c'è molta confusione e ogni giorno può variare chiaramente la situazione perché il virus sta arrivando anche in alcuni posti dove prima non c'era. Insomma, la situazione è molto complessa. Allora, torniamo invece adesso a sentire anche Maurizio Colantoni e Anna da Milano. Allora, a dirà del fatto che Anna con la sua vero volley sarà ferma, cioè giocare a porte chiuse con Chieri proprio domenica prossima, quindi quello che stavano dicendo in studio si ripercuote anche nella pallavolo, come diciamo, questa sensazione intanto qual è? Perché giocare a porte chiuse, cioè si falsa un po' il campionato, oppure sono prioritarie, come diceva Pancalli, cioè le vicende umane, cioè la persona, la parte che non riguarda lo sport, no? Potrei dire un po' entrambe, più che altro perché più procrastiniamo le partite, il campionato poi a un certo punto deve, diciamo, finire per darci la possibilità di preparare questa estate importante. Dall'altro lato sicuramente bisogna un po' cercare di prendere tutte le precauzioni possibili e quindi per ora sappiamo di dover giocare a porte chiuse che anche per la pallavolo non è. All'interno della squadra come la vivete questa situazione? Un po' come vivono tutti nelle loro squadre, però come la vivete? Come la senti tu? Ma è strana perché ovviamente giocare senza tifosi, senza pubblico non succede fortunatamente spesso, quindi è un momento un po' di stallo, bisogna continuamente adattarsi. Voglio tornare un attimo a Luca Pancalli che saluto, perché insomma con la speranza, chiaramente quella che ci siamo detti, insomma che possa tornare tutto nella normalità, una bella notizia per il Paralimpico c'è perché per la prima volta nella storia il City Volley sarà presente alle Paralimpiadi, è veramente nato sostanzialmente dopo il 2012, in pochissimi anni, con l'aiuto di Amauri Ribeiro siamo riusciti a portare una nazionale ed è una bella soddisfazione, Presidente. Quella è una delle qualificazioni delle quali vado più fiero, naturalmente riconosco e do atto e merito alla Federpallavolo, al Presidente Cattano e a tutto lo staff della federazione di aver lavorato in maniera straordinaria, peraltro sottolineiamo il City Volley femminile, che ci consente probabilmente di avere nella delegazione una percentuale di atlete maggiore ai loro colleghi maschietti. Però è un risultato straordinario che dimostra ancora una volta come una federazione olimpica nel momento in cui condivide un percorso e una mission paralimpica lo sa fare e lo sa far bene, perché è una qualificazione inaspettata, probabilmente da me stesso, inimmaginabile un po' di anni fa, eppure ci si è riusciti. Questa è la dimostrazione che le cose quando si vogliono fare si fanno e si fanno alla grande. Merito non nostro che abbiamo dato soltanto gli strumenti alla Federpallavolo, ma soprattutto del tecnico e di tutto lo staff federale. E questo ovviamente, Maurizio scusami perché devo interrompervi, perché noi abbiamo anche il calcio questa sera all'interno del nostro Sport Totale e abbiamo assolutamente un allenatore che ospitiamo così volentieri all'interno di Sport Totale. Sport Totale che vi ricordo e ringrazio per chi ci segue anche il mercoledì alle 17, sempre sul canale 57, ma io tornerei subito a Milano dal nostro Maurizio Colantoni. Certo, ma entriamo un po' nella parte sportiva perché a Natanesi parliamo di una dei migliori centrali del nostro campionato, della nostra nazionale. Io spero che facciano vedere qualche immagine di te che hai murato nell'ultima partita con Casal Maggiore nei fatti otto di Muri, non è una cosa normalissima da fare in una partita. Che centrale sei? Raccontaci questo. Ma i muri sono il mio fondamentale preferito, quindi inviterei poi tutti quando, e spero, le porte si riapriranno al pubblico a venire a Monza nel nostro palazzetto per capire un po' il nostro mondo, come è fatto e spero poter rifare altri muri. Una stagione difficile per Monza, c'è tempo per rifarvi perché comunque questa è una squadra che può fare molto bene in campionato, un campionato dominato da Conegliano. Sì, adesso inizia la parte bella del campionato perché iniziano i play-off. Sicuramente Conegliano è una squadra difficile contro cui giocare, ma in caso dovremo giocare poi contro di loro più avanti, lì daremo del filo da torta. Domanda che ho fatto anche prima, speriamo che torni tutto normale. Tokyo ovviamente è l'obiettivo perché tu sei una delle magnifiche ragazze del mondiale all'argento giapponese. Il giappone ci hai giocato un anno fa, no? Sì, abbiamo parlato tanto di Paralimpia, di Olimpia, di ovviamente il sogno di ogni grande atleta e quindi è uno dei miei sogni da quando Rio è finita. Noi avevamo, cara Arianna, un servizio, Totò Rossini, che parlava proprio della situazione del campionato maschile. Non so se abbiamo il tempo di mandarlo. Penso che oramai siamo in dirittura, però sento Roberto Iacopini, no, dobbiamo chiudere per fare anche una battuta finale con Stefano Michelini, ma è stata una puntata, come sai, abbiamo seguito in divenire tutto quello che sta succedendo, quindi io ringrazio tantissimo te e Anna, davvero grazie. E vorrei invece andare a chiudere con il basket con Stefano Michelini perché appunto si è parlato di torne...